Caserta, intanto i complimenti per il campionato scorso, un torneo da urlo alla guida della Juve Stabia. Sì, è stato un campionato strepitoso, siamo riusciti a ritornare in B facendo veramente un campionato molto bello. Adesso è passato, dobbiamo pensare a fare questo campionato che sarà molto difficile, cercare di farlo al massimo e arrivare prima possibile alla salvezza. Come si prospetta questo nuovo torneo, questa nuova esperienza? Difficile, è molto difficile perché il campionato di Serie B, lo sappiamo tutti, è molto lungo, due o tre partite possono modificare la classifica sia in positivo che in negativo. Però noi dobbiamo cercare con l'entusiasmo, la voglia di fare bene, di fare un campionato per mantenere la categoria. Del Sole come si comporta? No, bene, Del Sole è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti, è un giovane e bisogna farlo crescere, però credo che possa fare veramente bene quest'anno e soprattutto fare una buona carriera. Avevate cercato anche Marras? Sì, è un giocatore che a noi piace, però il Pescara ha deciso di trattenerlo, però noi abbiamo anche in Rani Rose giocatori importanti e secondo me faranno bene. Ha seguito il Pescara lo scorso anno, una sua impressione? Sì, l'ho seguito perché c'è un carissimo amico, Scognamiglio, che gioca col Pescara, ci sentiamo spesso, so che è una piazza molto bella e importante, soprattutto dove si sta bene. Ha fatto, a mio avviso, un ottimo campionato e sono sicuro che anche quest'anno farà un ottimo campionato. Le faccio l'ultima, tanta qualità da calciatore, la Juve Stabia giocherà anche un grande calcio, lo ha fatto già vedere in C? Speriamo, poi alla fine i protagonisti sono sempre i calciatori, io ho fatto una discreta carriera da calciatore e spero di fare altrettanto da allenatore, ma sempre con l'aiuto dei giocatori che sono i veri protagonisti. Bocchelu. Grazie, grazie.